Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Spero che stiate trascorrendo una splendida giornata e ovviamente bentornati sul canale. In questo video voglio parlarvi di un calciatore francese classe 2002 che nei prossimi giorni dovrebbe firmare per lo Spezia. In ultime settimane, sempre riguardo a questo calciatore, si era aperto un piccolo giallo, ma ora andremo a sviscerare tutte le questioni, oltre che ovviamente a presentarvi il calciatore. Prima però di iniziare a parlare del nocciolo, della questione, del protagonista di questo video, mi raccomando lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanina per le notifiche e guardate qui sotto l'info box dove trovate tantissimi link appartenenti a video che ho realizzato nelle scorse settimane. Nonché anche lì che è il mio secondo canale, Inset Football, dove parlo di calcio soprattutto italiano, ma in lingua inglese. Andiamo però a noi. Vi voglio parlare di Yannis Antist, centroavanti di 180 cm, francese del Toulouse classe 2002. Un giocatore nato appunto nella società che adora ancora per questi pochi giorni, comunque detiene il cartino del giocatore, con la quale appunto ha debuttato nella stagione 2019-2020 in Ligue 1. Nella scorsa stagione per lui 35 presenze, 8 gol e 4 assist, assolutamente niente male per avere 18-19 anni. Un centroavanti appunto, un attaccante diciamo così di 180 cm, dà la bella muscolatura, dà la bellissima corsa fluida, veramente ideale per chi gioca a spazi aperti, perché poi ha anche un bel tocco di palla, un bel driving, soprattutto una bella corsa sul lungo e un bello scatto da fermo, che lo rendono molto 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 utile appunto in fase di transizione positiva, quindi in fase di ripartenza. Un giocatore che ha comunque sia un buon feeling col gol, che anche appunto con gli assist, infatti può ricoprire un po' il doppio ruolo, sia come attaccante che come esterno. Infatti nel Toulouse, che come modulo adotta di solito un 4-3 saltuariamente, un 3-4-2-1, lui ha ricoperto sia il ruolo dei due, nel 3-4-2-1, e come centroavanti nel 4-3 qualche volta, invece altre volte è stato utilizzato sia sulla parte destra che sulla parte sinistra appunto del fronte attacco. Ripeto, un prospetto sicuramente molto interessante, che è sinistro di piede, di base mancino, ma ha dimostrato, soprattutto anche in fase di conclusione, di avere anche una buona dimestichezza con il piede destro, quindi questo è un punto a suo favore, diciamo così. Un investimento che dovrebbe montare sui 4.5 milioni di euro, che poi potrebbero arrivare a 5 con bonus. Su questo giocatore però si era aperto un po' un piccolo caso. Infatti inizialmente si pensava che dietro a questo acquisto ci fosse dietro Sassuolo, doveva dire Sassuolo avrebbe preso il giocatore e poi dirottato allo Spezia su questa questione, è intervenuto anche Pecini, il dietro dello Spezia, che ha detto sì, noi abbiamo provato ad acquistare il giocatore in sinergia, perché comunque interessa come profilo, interessa molto anche a Sassuolo, però non è stato possibile portare a termine questa sorta di trattativa a due. Quindi il giocatore è totalmente dello Spezia, mantenendo però un fil rouge, una via preferenziale, qualora il giocatore nell'arco di due stagioni dovesse esplodere. Quindi ecco, può essere un qualcosa di molto interessante come operazione. Dopotutto anche di queste operazioni in sinergia ve ne sono state veramente tantissime nel corso degli ultimi anni soprattutto. Quindi dove potrebbe collocarsi un profilo come Antist? Beh, si potrebbe collocare su tutto a fronte attacco. Quindi sia come esterno, che comunque come esterno appunto in questo attacco a tre, che anche come punta centrale, un attaccante un po' più di movimento. Ripeto, bisogna sempre vedere la tipologia di attaccante di prima punta che lo Spezia vuole adottare, se è uno un po' più pennellone come Enzola, o magari un po' più di movimento, come magari appunto può essere anche uno Strelec, insomma. E comunque è da vedere, quindi in base alla scelta del tecnico, in base alle caratteristiche della punta centrale, insomma, tutto il resto può adattarsi. Vista la sua grande corsa, la sua fluidità di corsa, e comunque anche le sue buoni doti difensive, non tanto nel contrasto, ma quanto nel mettersi a favore della squadra, giocare anche su tre quarti per la squadra, beh, secondo me potrebbe sia giocare come esterno in un attacco a tre, ma anche, quindi con gli attaccanti, diciamo, puri, che come esterno, quello magari con una punta centrale, una seconda punta, è un centrocampista offensivo, diciamo così, la Gudelo della situazione. Ovviamente non sto paragonando Antista-Gudelo, perché Antista è un attaccante, a Gudelo è più un centrocampista. Però per farti capire, adesso che va tanto di moda questo 4-3, che in fase di non possesso, può diventare anche un 4-4-2, ecco che magari, avendo, ipotizzando, un Zola e mezzo con un Giasi e un Antist, in questo caso Antist può allargarsi sulla destra o sulla sinistra per comporre questo centrocampo a quattro, tendenzialmente penso più a destra, perché Giasi tende a giocare sul lato sinistro del campo, quindi questo 4-4-2 con un Antist largo a destra, con i tre centrocampisti che vanno a scalare, e con un attacco formato da un Zola, o uno Strelic della situazione, o quello che sia, e un Giasi che li gira un po' attorno. Quindi, tatticamente può essere un prospetto interessante, ma soprattutto perché la squadra sarà portata a giocare un po' in contropiede, a chiudersi e ripartire. In questo caso Antist, appunto sulle ripartenze, quando ha spazio, ottimi tempi anche nel tocco di palla per sorpassare l'avversario, ecco, secondo me potrebbe essere un profilo molto molto interessante per attacco spezzino. Ricordo, Gianni Santist, caso 2002, francese, 180 cm, che dovrebbe apportare lo Spezia per una cifra pari a 4,5 milioni di euro, con i bonus che portevano la cifra totale a 5 milioni, però ancora non ci sono, non ci sono, diciamo, indiscrizioni o comunque notizie sulla durata del contratto, contando la problematica che il Sassuolo avrà, che scusate, che lo Spezia avrà nelle prossime, scusa questa, nelle prossime 4 sessioni di mercato, dopo il quinquennale fatto a Cher, non mi stupirei se ecco, magari venisse fatto un quinquennale anche a Antist, però ecco, quantomeno mi aspetto un trentnale, un trentnale barra, scusate, mi aspetto un quadrennale, quindi un quadrennale barra quinquennale per il giocatore francese, ora dobbiamo aspettare soltanto la firma, l'ufficialità, perché se ne parla ormai da almeno 10 giorni, ma ad ora non è stato fatto, però appunto, indicazioni pecini, che risalgono a pochi giorni fa, fanno tranquillamente capire che il giocatore a breve firmerà per lo Spezia. Spero che il video vi sia stato utile, in tal caso lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete, e date un'occhiata a tutti i miei link qui sotto nell'info box. Ci vediamo quindi al prossimo video, vi mando un abbraccione, ciao ragazzi!